ciao ragazze bentornate nel mio canale benvenuti in questo nuovo video questa è una novità è una collaborazione con anna del canale di lady night and style abbiamo pensato di creare questa rubrica che parliamo noi recensiamo cinque prodotti a nostra scelta prodotti che abbiamo acquistato su aliexpress ovviamente che possono riguardare le unghie il make up vario genere diamo le stelle una stella per il pessimo cinque stelle e il massimo e ovviamente parliamo del prodotto e diciamo il perché è una stella e via dicendo sotto nell'info box metterò il video gemello al mio che è quello anna del canale lady night and style che ringrazio tantissimo di aver partecipato di partecipare con me a questa collaborazione l'adoro tantissimo è una ragazza favolosa e dolcissima e seguo sempre tutti i suoi video per cui sottometterò il video gemello al mio che andate a vederla sicuramente e partiamo con i prodotti che io ho scelto e partiamo dal pessimo a una cosa se fateci sapere se questo video vi può piacere se questo tipologia di video vi può piacere scrivete sotto le vostre idee i vostri commenti che sono sempre ben accetti se vi è piaciuto questo tipo di video cliccate il pollice in su iscrivetevi al canale che sta la campanellina dovrebbe essere di qua e attivate le notifiche allora io partirei con i prodotti allora il mio primo prodotto è questo che è un rimel una cosa mi ero dimenticata di dire non metto i link dei dei fornitori degli prodotti che faccio vedere li potete trovare nella come si chiama nella playlist ho fatto la playlist degli acquisti aliexpress e anche anna farà così e trovate lì i vari prodotti anche perché tanti sono vecchi e sinceramente non so dove andarli a cercare per cui voi magari fate uno screenshot al momento del prodotto che vi interesse tramite la foto aliexpress alla possibilità tramite la foto di ritrovare il prodotto che vi interessa allora questo lo sto usando già da un mese e passa è un è un rimel che ovviamente adesso lo finisco si è batter più senza ombra di dubbio lo sto usando ovviamente per andare a ballare quando esco e non mi piace perché è pastoso faccio vedere non mi piace proprio veramente pastoso questo è una stella è veramente molto pastoso quando lo metto sulle ciglia praticamente sono tutte impastate si attaccano tutte per cui devo fare due passate prima una passata poi un passo all'altra ciglia e poi faccio la seconda passata in modo tale che si per districarle perché veramente è vede è molto è proprio denso molto denso proprio non mi piace è nero poi quando lo devo togliere sicuramente ci vuole una vita e mezza perché è waterproof senza ombra di dubbio però non no questo è una stella di sicuro di fatti ho già acquistato altro che poi finito questo lo proverò e questo è uno poi il mio secondo è questo qua che ho fatto la recensione poco tempo fa che è l'attivatore per l'acrilico a immersione allora questo non è un buon prodotto perché io già mi sono già informata e ho già chiesto in giro e deve asciugare prima assolutamente non si può tenerlo così tanto tempo se vi ricordate quando io l'ho messo su ci è voluto veramente tanto tempo prima che si asciugasse non va bene e poi io vi avevo anche detto che provavo fare il metodo con il monomero e assolutamente non va bene vi faccio vedere il perché allora vedete anche nel mignolo questo allora fatto col monomero questo è fatto con l'attivatore e a parte che ha cambiato colore perché ho usato il pennello sporco era molto più chiaro ma facendolo con il monomero costerà anche meno vedete ma non si attacca cioè in pratica rimane praticamente è tutto bagnato poi dov'è che ce l'avevo anche qua c'è è molto liquido e va proprio dappertutto e non va bene e poi quando tu pucci dentro l'unghia no non va bene neanche così perché si sposta assolutamente invece con questo metodo qua con questo con la base rimane proprio tutto attaccato e è fatto apposta per immergerlo però questo che assolutamente no io adesso volevo acquistarlo da nicole di ari che è un'altra marca buona e provarlo a vedere qual è migliore ma questo assolutamente no gli do due stelle due stelle gli do poi come terzo prodotto è questo rossetto della focallure ottimo rossetto cioè per quello è bellissimo su il problema dove sta di questi rossetti che adesso ve lo faccio vedere che farò la recensione dei rossetti allora il colore è questo ve lo faccio vedere il problema di questi rossetti che è matt perché chi segue i miei video sa che a me piacciono i rossetti matt allora il problema di questi rossetti è che appiccica della focallure veramente tantissimo non lo faccio vedere così e questo è il colore è molto bello o anche altri colori però appiccica è bello ma non a tenere sulle labbra un rossetto che appiccica anche se ho già visto che si può mettere il fondotinta fare uno scrabba le labbra prima di mettere questo tipo di rossetti matt perché secca molto le labbra e anche magari mettere prima di mettere questo il burro cacao faccio tutte queste cose però rimane il fatto che questo appiccica veramente tanto per cui tre stelle perché è molto bello perché come rossetto vedete come come bello come rossetto però non no poi questo è un siero che sto usando da una settimana al retinolo allora io questo da quattro stelle e ovviamente devo provarlo più di una settimana e per quello che do quattro stelle non il massimo perché io questo lo metto su alla sera due gocce nella zona delle dove ci sono il collo sicuramente la parte della bocca e le zampe di gallina ma dove si formano ovviamente le rughe il problema dov'è che sento seccare un po la pelle per cui metto prima questo poi metto la crema però vediamo un po più avanti se cosa fa se quando del tempo cosa fa però mi piacerebbe avere un siero retinolo che non mi secca la pelle avendo già essendo già anziana lo capite voi che ho 53 anni sono già anziana e questo qui non deve non è giusto secondo me che secchi la pelle magari se qualcuno di voi l'ha usato usa un siero di questo genere se mi dice che lo sto usando bene fatemelo sapere allora il top 5 stelle la do a questa punta e ho avuto anche sul mio gruppo di aliexpress una ragazza che l'ha presa e mi ha fatto i complimenti perché veramente ho dovuto fare pausa perché la laratrice mi ha avvisato che è finito allora dicevo una ragazza che l'ha comprata mi ha fatto i complimenti perché effettivamente è una bomba questa punta di fatti la sto tenendo lì e sto finendo fuori le altre questa ve la faccio vedere bene da vicino aspettate facciamo così eccoci qua metti a fuoco non mette a fuoco è che sono al buio qua vediamo di far così ecco allora questa è una punta che è veramente eccezionale e ti tira via tutto è come il burro questa do veramente 5 stelle ottimo ottima davvero come punta la trovate nelle recensioni delle punte il link se la volete acquistare ma questa è veramente una punta fantastica veramente non poi qua non rovina le cuticole basta non alzare la velocità della fresa e niente questa qua do veramente 5 stelle perché è veramente ottima ok io ho finito questi sono i prodotti che ho recensito io abbiamo deciso di fare comunque cinque e prodotti per non fare il video troppo lungo perché i video lunghi dopo stancano da vedere anche io mi stanco vedere il video troppo lunghi e niente ripeto che metterò nel link nell'info box il link gemello al mio di annali di nice stai che ringrazio ancora e le mando un grande bacio perché è un tesoro quella ragazza vi invito ad andare a guardarlo vi chiedo se vi è piaciuto il video se vi piace questo genere di video e se vi va che lo facciamo una volta al mese io e anna recensiamo vari prodotti e niente aspetto le vostre commenti se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale un bacione grazie ragazze grazie a tutte vi voglio bene iscrivetevi al canale